Siamo sul lungo fiume Po dove è nata Torino, la città di Torino infatti è nata la confluenza tra il fiume Po e il fiume Daria Riparia. Siamo al castello del Valentino a Torino, Gennaro Gennini, vi mostro le sculture del castello. 2 aprile 2015, Torino, Gennaro Gialmini, adesso vi faccio vedere la mole antonelliana. Grazie. Il Palazzo dell'Università. La Biblioteca Reale di Torino. La Biblioteca Reale di Torino. Il punto energetico positivo di Torino. Siamo qua, Palazzo Reale. Il punto energetico positivo è alle statue di Castere e Polluce. Il Palazzo Reale di Torino. 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 Il Palazzo Reale di Torino.